Con l'emergenza coronavirus in Cina l'economia è in crisi e l'inquinamento è ai minimi storici. Questo è ciò che mostrano alcune immagini satellitari diffuse dalla NASA, un vero e proprio crollo dei livelli di diossido di azoto dei primi due mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le misure per contenere il coronavirus infatti hanno portato a riduzioni della produzione dal 15% al 40% nei settori industriali chiave, riducendo di un quarto o più le emissioni di CO2 del paese. Ma secondo i dati satellitari raccolti successivamente da windy.com, l'attività economica in Cina sembrerebbe ripartita e con essi i livelli di diossido di nitrogeno che sono aumentati nelle aree industriali del paese. Ma quelle immagini diffuse dalla NASA, secondo il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, sono molto significative perché dimostrano che nel momento in cui si interviene per diminuire e ridurre in modo significativo le emissioni delle nostre città, significa che si sta ripulendo l'aria. Intanto circa 20.000 allevamenti sono stati chiusi per contenere l'epidemia e il Comitato Permanente Cinese ha approvato una proposta di legge con lo scopo di vietare il commercio e il consumo di animali selvatici, pratica ritenuta responsabile della diffusione del virus. Se la casa brucia non si aspetta qualche anno per spegnere l'incendio, eppure è questo che ci propone oggi la Commissione Europea, questo testo è una resa. Lo dice Greta Thunberg durante il suo intervento al Parlamento Europeo, commentando la legge sul clima varata dall'esecutivo UE. Siamo nel pieno di una crisi che però non viene trattata come tale, manca la consapevolezza, la giusta leadership e il tempo è un piano che ignora i dati scientifici. 34 attivisti per il clima, tra cui la stessa Greta, hanno firmato una lettera aperta alle istituzioni europee, nelle quali ribadiscono. Non abbiamo bisogno di obiettivi per il 2030 o il 2050, abbiamo bisogno di obiettivi per il 2020 e per ogni mese ed anno che verrà. Se le emissioni dovessero continuare a rimanere a livello attuale, anche nei prossimi anni, il budget si esaurirà in fretta. Lo scorso settembre, oltre 7,5 milioni di persone in tutto il pianeta sono scese in strada, chiedendo ai leader internazionali di unire le forze con la scienza per dare ai giovani un futuro migliore. E ancora una volta, il 24 aprile, nelle piazze di tutto il mondo, i giovani si faranno sentire in occasione del quinto sciopero globale per il clima. Mentre nel mondo tutta l'attenzione è focalizzata sulla diffusione del coronavirus, l'Antartide ha raggiunto temperature da record rimanendo senza neve. Nella stazione di morito raggio di Seymour Island per la prima volta è stata rilevata una temperatura di ben 20,75 gradi centigradi. Alcuni ricercatori hanno anche scoperto che una nuova isola, una formazione rocciosa identificata con il nome di Seaf Island, che non è altro che il risultato del normale sollevamento della crosta terrestre in seguito allo scioglimento dei ghiacciai. Sia il ghiacciaio di Two Weights che il ghiacciaio di Pine Island sono alcuni dei ghiacciai in più rapida ritirata in Antartide a causa dell'acqua calda dell'oceano del mare di Amundsen che circola sotto il ghiaccio. Sempre nel mese di febbraio, in Antartide, sull'isola di Calindez, la neve è diventata rossa. Il colore è legato all'abbondante fioritura di una microscopica alga, esplosa per colpa delle elevate temperature e a sua volta responsabile di un'accelerazione dello scioglimento dei ghiacci.